Vi siete mai chiesti come si sarebbe voluto il basket se l'NBA fosse fallita? Impossibile dite? Beh, e gli anni 70 e i primi del decennio seguente furono un periodo di transizione per la lega cestistica americana dopo i fasti dell'era di Bill e Wilt. I palazzetti erano sempre più vuoti, gli spettatori televisivi erano in calo e la stragrande maggioranza delle franchigie stava perdendo soldi per mantenerle in vita. Oltre a ciò incombeva anche l'enorme problema dell'uso di droghe leggere e non che si stima convolgesse tra il 40 e il 70 per cento dei giocatori in attività. Tutto ciò portò a una grande crisi che nella realtà fu orginata e poi risolta grazie al neocommissionale David Stern, ma nel nostro multiverso che stiamo guardando arrivò prima di stare una accordata di imprenditori, di cui una parte anche europea, che aveva in mente una grande rivoluzione per il basket statunitense. Quest'ultimi comprarono l'NBA, trasformandola a nome del maggiore ospedente di tale cordata, ovvero la Sweet Basketball League. Buonasera a tutti gli spettatori da casa e a chi è qui. Sono molto emozionato di poter annunciare che a partire dalla stagione 83-84 sarò il commissioner a tempo pieno della nuova e migliorata NBA, che d'ora in poi si chiamerà S.B.L. Sono a conoscenza della magnitudine di questo cambiamento, ma sono fermamente convinto che possa essere per il meglio. So che la passata amministrazione ha commesso degli errori e sarà compito mio e del mio team fare di tutto perché ciò non accada più. E infatti mentre sono qui che parlo con voi, il mio team sta già lavorando a dei grandi cambiamenti che verranno implementati nelle prossime stagioni. E infatti sono entusiasta ed orgoglioso di poter annunciare che ci sarà il primo storico completo redraft del paio di centinaio di giocatori che sono al momento in attività nella vecchia NBA e che verranno riassegnati alle nuove e migliorate squadre della S.B.L. Spero vivamente che voi fan e amanti della Palacanesto che state guardando questa trammissione possiate rimanere dalla nostra parte e abbiate fiducia in noi e nel nostro progetto in maniera che possiamo tutti guardare e apprezzare lo sport che amiamo. E ora senza perdere altro tempo, questo è il primo storico redraft della S.B.L. Ebbene sì, eccoci qua, benvenuti nella Sweet Basketball League. Ci siamo, la stagione d'inizio è 1983-84 e guardate qui chi c'è accanto a noi. Nuove squadre, un rebrand totale della vecchia NBA, un redraft totale dei giocatori. Come detto dal Commissioner e adesso andiamo una per una a vedere i roster perché dovremo andare a vivere assieme lo sviluppo di questa lega, lo sviluppo dei giocatori, l'arrivo di tanti nuovi giocatori ovviamente e ci saranno tante tante sorprese per voi. Una delle quali io già ve la spoilerò. Oltre a credervi del grande supporto con dei grandi mi piace, grandi commenti e grandi iscrizioni per questo content perché potete immaginare quanto lavoro c'è voluto per creare questa cosa. Le classi draft non seguiranno l'ordine reale e ci mi limiterò a questo per adesso. Abbiamo in Philadelphia Union capitanati da Adrian Dentley con un altro paio di 80 di overall e una squadra molto molto profonda. Seguono poi Milwoki Stacks con il dynamic duo di guardia Rick Green e Jim Paxton entrambi 86 di overall. Arrivano poi i Washington Red Dogs di The Liesman, George Gervin seguito poi da Purvi Short e Artis Gilmore. Contra Robinson, Gerald Anderson e Tur Bailey. Insomma un'ottima squadra questa qui. Dove dalla panca c'è anche un giovane Craigilo. I prossimi sono i Chicago Union di Norm Nixon, Alex English e Jamal Wilkins. Uh, i Cleveland Monsters con Larry Legend, Larry Bird e Ralph Samson tra l'altro. Oltretutto una coppia non non da poco. Anche i Detroit Motors hanno nell'ala piccola il loro miglior giocatore con Mark Aguirre che fa sempre grandi cifre di solito in queste simulazioni con Bobby Jones e Bill Cartwright. Un duo difensivo non male nella sezione lunghi. John Lucas dalla panca. Anche questa è una squadra abbastanza completa. Potrei fare praticamente lo stesso discorso per gli Atlanta Reign di Kelly Tripushka, Daryl Griffith e poi Larry Drew e la Zell Thompson come centro. Ah, e Magic è passato da un grande mercato all'altro, ovvero da Los Angeles a New York. Magic Johnson a guidare la barracca assieme a Marcus Johnson, quindi abbiamo i due M.Johnson che giocano assieme. Bella, con questo Dynamic Duo. Joe Barry Carroll e Giovanni Lungo che conosciamo da altre simulazioni e potrebbe essere pericoloso. Fred Browns, Elvin A, ha 37 anni e ancora provare a vincere il titolo con Magic. Emel Carr, una squadra assolutamente completa e profonda. Tra l'altra parte del ponte, diciamo, abbiamo i New Jersey Generals con Jack Sim e Kevin McHale che per qualche strana ragione parte la panca, ma credo verrà poi sistemato, con John Drew, Mike Woodson, il poi allenatore, e Michael Ray Richardson, che anzi, a cui faremo mettere la testa a posto senza bisogno di squalifiche, perché sotto cambio di squadra e tutto quanto, metterà la testa a posto, ne sono sicuro. Ai Boston Beacons, invece, gioca Karim Abdul-Jabbar. Assieme a Larry Nance, il resto è la squadra così, così, ma ci sono tanti 70 alto di overall assieme a Danny Ainge. Quindi Karim è finito a Boston, wow. Gli Indianapolis Checkers hanno addirittura un 80 dalla panchina, perché c'è Jeff Ruland, titolare, assieme a Terry Cummings, Reggie Tews e dalla panca L'Uomo Ponte, Junior Bridgeman. Per quanto riguarda la Western Conference, i San Diego Corsairs di Gus Williams e di Johnson Albert King e Bill Lambeer. Molto, molto carino questo quintetto, con anche una panchina piuttosto preparata. L'Iuta Range, sì, comunque è rimasta Eastern Conference e Western Conference, mi ero dimenticato di precisarlo, di Bernard King, Tom Chambers e Bob Lanier. Con un Rob Williams, titolare Billy Knight, perché lo metto da guardia, ok. Al Sacramento Redwoods, invece, c'è Sidney Monkrieff, con 90 di overall che guida la squadra, assieme a Orlando Wurridge e Kenny Carr. L'unica squadra di LA che abbiamo ora, ovvero i Los Angeles Knights, hanno Walter Davis, Calvin Nutt e Maurice Lucas, diciamo, come Big Free, assieme a Stipanovic, Jerry Sidney e... E però, e però guarda un po' chi c'è qui, il buon Peter Goodmanson. Chi non sa perché mi sto gasando per lui, meglio che si vada a dare un'occhiata al MyGM 100. I Dallas Toros, capitanati, e non a caso, dal capitano appunto, dal Chief, Robert Parrish, assieme a Michael Thompson, qui una Boston LA che si riuniscono a Dallas, Carl Kellogg, Vinny, The Microwave Johnson, che il suo ruolo sarebbe la panchina, ma qui lo metto a titolare giustamente, direi. Poi ci sono una delle prime squadre ad aver subito un rebranding, ma non un rename totale, ovvero i Portland Trailblazers, di Rolando Blackman e Andy Johnson, di un giovane e molto promettente James Worthy. Non sono gli unici, come vedete, abbiamo però intanto poi gli Houston Voyagers, che hanno Mo Cheeks e Dominic Wilkins, grandi ali-oop da questa coppia play alla piccola, però con anche Chocolate Thunder, Darrell Dawkins e Cedric Maxwell. Assieme anche a Ricky Pierce, è una squadra interessante, considerando che Dominic ha appena 23 anni. I San Antonio Spurs e quelli qua sempre loro, ma ribrandizzati di Kiki Van Der Weeghe e Denise, con anche Jamie Edwards come 380 più in quintetto, Johnny Davis dalla panca. Gli Arizona Phoenix seguono poi con Isaiah Thomas, Warby Free e David Thompson, un trio di esterni assolutamente non da poco. Poi c'è anche Alvan Adams e Greg Kessler dalla panchina. interessante, un po' corta, ma interessante anche questa squadra qui. Arrivano poi i Denver Rockies, di Moses Malone, Johnny Moore e Dan Roundfield, con Robert Ryde dalla panca, assieme anche a Wayne Cooper. Panchina interessantissima. Ecco poi i tanto amati e quasi ritornati nella realtà Seattle Supersonics, con Dennis Johnson, che ritorna tra l'altro a Seattle, e Buck Williams e Trey Rollins. Con un po' di esperienza dalla panca, e Nate Archibald, tre buoni panchinari, peccato, Dale Ellis, che però è ancora molto giovane nella sua stagione da rookie. E chiudiamo con i Golden Style Warriors, anche loro solo ribrandizzati, Otis Beardsong, Dr. J però, da alla piccola, Azz, Bill Walton, che ha già 30 anni però è ancora nel piano della sua attività, Bob McAdoo dalla panca, Phil Ford, altra grande squadra anche questa qui. Il me del futuro ci tiene a precisare che ovviamente, oltre ai loghi che avete visto, alle divise che avete intravisto, anche se vi spoilerò uno, forse uno dei più belli, sono stati reworkati tutti i parquet e pian piano li scopriremo assieme nei prossimi episodi. E in più, come vi avevo accennato prima, vi lascio con questa chicca qui. Vediamo un po'. 2013. Ok. Bene, questa era solo l'introduzione dell'episodio 0, vi ho svelato alcune cose, altre le scopriremo assieme man mano dell'avanzamento degli anni, delle simulazioni, delle stagioni e ovviamente anche degli episodi. E quindi, volete vedere come andranno le prime stagioni? Lasciate un mi piace e ci vediamo se fate i bravi con i mi piace prossima domenica. Dai forza che ci tengo molto a questa serie, a domani nei prossimi video, a domenica per l'episodio 1 effettivo e descrizione per le live praticamente ogni sera. Bella boys!